Ciao, sono Domizia D'Amico, sono un'attrice e sono nata il 17 maggio del 1991. Vengo da un paesino della provincia di Foggia, in Puglia, ed oggi sono residente a Roma. Ho diversi appoggi nelle città come Cagliari, Foggia e Bari. Mi sono diplomata presso l'Accademia d'Arte Drammatica, Pietro Sciaroff, e dopo il diploma ho frequentato diversi laboratori e workshop, con regissi come Daniele Salvo, Pierpaolo Sepe, Massimiliano Civica, Matteo Tarasco, Luciano Melchionna e Patrizia De Santis. Nel 2019 ho vinto un corso di perfezionamento per attori professionisti, finanziato dalla Regione Lazio, presso il Teatro Salomberto, con la direzione artistica di Lorenzo Gioielli. Ho frequentato anche laboratori di doppiaggio, con Roberto Chevalier, Roberto Pedicini e Cris Agnianzante. Ho fatto per tanti anni danza classica e danza moderna, e tra i miei skills ci sono sport molto dinamici, come nuoto, sci, roller e bici. I miei dialetti sono il pugliese ed il romano, e nelle mie esperienze lavorative invece c'è molto teatro, con produzioni anche del teatro pubblico pugliese. Queste sono le mie mani, mentre questi sono i miei profili. Grazie, ciao.